Arrivano da Roma gli ultimi avvistamenti di Osama, il 14enne marocchino scomparso mercoledì scorso dalla sua abitazione di Salice e Salentino. A dichiararlo è l'imam di Lecce che è in stretto contatto con la famiglia del ragazzino. Lo zio e il padre di Osama sono partiti alla volta della capitale dopo aver ricevuto la segnalazione di un ragazzo arabo che avrebbe visto Osama ad Ostia Lido. Indossava un costume, ha riferito il testimone, e dalla descrizione dell'indumento i genitori pensano si tratti proprio di Osama. Questo ragazzo di Roma ha dato delle indicazioni senza entrare troppo nel dettaglio parlando ad esempio del costume che portava al mare il ragazzo che aveva incontrato, il colore e altri dettagli che hanno fatto che il fratello era quasi certo al 100% che si trattava di Osama. Ma non è l'unica importante testimonianza che arriva da Roma. Lo zio e il fratello del 14enne continuano a mostrare in queste ore la foto di Osama ai viaggiatori in transito nella stazione termini e già una decina di persone avrebbero riconosciuto il 14enne. Testimonianze ora al vaglio della procura di Lecce che conduce le indagini. Tra le strade che la magistratura sta battendo anche quella del reclutamento da parte di gruppi terroristici, ipotesi che però la famiglia esclude categoricamente. Intanto martedì sera alle 20 una fiaccolata partirà dalla casa del ragazzo a Salice e si snoderà per le vie del paese fino al municipio con una veglia di preghiera laica.